Trovandomi in territorio soveno mi sono fermato per una pausa pranzo a Medana nel pieno delle colline del Berda. Ho scoperto l'agriturismo ristorante Beliza del titolare Zatklo e della moglie Mari. La residenza familiare risale al 1898 per merito del bisnonno Pepo. Solo dal 1992 ha mosso i primi passi nella ristorazione in una piccola sala con pochissimi tavoli. Con il passare degli anni a cominciare dal 2004 l'attività si è ampliata notevolmente con altre sale, la trasformazione della cantina producendo i propri vini col marchio Beliza, il punto vendita, una sala conferenze e una decina di camere ben arredate con vista sulle colline. Approfittando della stupenda giornata di sole ci siamo seduti sulla veranda gustando alla vista la meravigliosa veduta panoramica delle colline del Berda sloveno. E su invito dei titolari abbiamo ordinato un tagliere di prosciutto della casa stagionato 36 mesi e per finire, visto che la griglia era accesa, abbiamo gustato un'ottima fiorentina, il tutto accompagnato con un vino bianco ed uno rosso baricato della casa. Il ristorante Beliza a Medana sa accoglierti nella maniera preferita per trascorrere una gustosa pausa culinaria di alto livello.